Ciao a tutte e ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, video dedicato alla mia hair care routine me l'avete chiesto veramente in tante e quindi eccomi qui a registrarvelo premetto che la mia hair care è sempre in continua evoluzione perché cambio spesso i prodotti che utilizzo, perché mi piace farli ruotare perché penso che a lungo andare poi i capelli si abituino a quel prodotto e magari poi non ottengo le performance per cui mi sono innamorata di quel prodotto ma questa è tutta un'idea tutta mia, comunque in generale mi piace cambiare spesso routine io ho un capello che un tempo era molto molto riccio, ma poi negli anni è cambiato quindi adesso è un riccio un po' più morbido, più un ondulato, non saprei come definirlo perché comunque negli anni i miei capelli hanno subito dei trattamenti insomma io li tingo, poi a parte vabbè adesso io faccio solo la ricrescita ma non tingo più la lunghezza perché diciamo ho recuperato il mio colore quindi non ho la necessità, a volte sì passo un po' il colore per rinvigorire dare un po' di lucentezza alle punte però in generale faccio soltanto la radice però ho fatto anche degli chatouche, insomma li ho decolorati quindi li ho stressati e quindi negli anni hanno un po' cambiato la loro consistenza e quindi quel bel riccio che avevo quando ero ragazzina, insomma si è trasformato un po' negli anni adesso vi faccio vedere tutti i prodotti che utilizzo perché fate tanti complimenti sui miei capelli io vi ringrazio e io invece in realtà non sono mai soddisfatta ma alla fine è sempre così e mi chiedete spesso appunto i prodotti che utilizzo per lo styling dei miei capelli come insomma faccio a tenerli così allora io faccio praticamente una volta a settimana circa quando ho tempo adesso non ce l'ho qui fisicamente da farvi vedere ma è una cosa insomma reperibilissima faccio un impacco pre shampoo una volta a settimana con l'olio di cocco l'ho terminato quindi non ce l'ho qui fisicamente da farvi vedere ma io prendo l'olio di cocco anche quello che si utilizza per cucinare lo trovo da natura sì, insomma è la stessa cosa è comunque un olio di cocco totalmente biologico è semplicemente olio di cocco e faccio un impacco pre shampoo, inumidisco i capelli ne metto una bella quantità e poi praticamente avvolgo i capelli in un telo e lo tengo su tipo mezz'ora, anche un'ora magari di solito diciamo la giornata in cui lo faccio è il lunedì perché il lunedì ovviamente ho più tempo, sto a casa e quindi magari mentre faccio qualcosa in casa io tengo su questo bel impacco ovviamente ragazze con i capelli umidi e l'olio di cocco va utilizzato assolutamente prima di fare lo shampoo perché altrimenti veramente si ungono i capelli dopodiché lavo i capelli quindi li sciacquo abbondantemente per eliminare tutti i residui di olio e procedo subito con il lavaggio allora, utilizzo due metodologie cioè, utilizzo due diversi prodotti allora, vi faccio vedere io lavo i capelli due volte a settimana allora, una volta utilizzo questa combo di questi due prodotti e sono due prodotti specifici per capelli ricci di Pantene allora, il primo è il Pantene Ricci Perfetti quindi uno shampoo per capelli ricci con oli nutrienti che vanno a definire il riccio ed è una formula, dice qui, Pro-V infusa di nutrienti che va appunto a questi nutrienti Pro-V che vanno ad aiutare il riccio a definirlo a renderlo più corposo mi piace molto questo shampoo perché effettivamente comunque sento i capelli belli morbidi lava bene il cuoio capelluto allora, io utilizzo anche shampoo per capelli lisci non mi creo il problema cioè, non penso oddio, lavo i capelli con uno shampoo per capelli lisci e poi avrò i capelli lisci perché questo non succede però, in generale, tendo ad acquistare prodotti specifici per capelli ricci visto che comunque io ho i capelli ondulati barra ricci e quindi questo shampoo mi piace moltissimo quindi io vi mostro, diciamo, i prodotti che io sto utilizzando in questo periodo voi mi vedete i capelli così e quindi io vi dico quello che uso dopo aver lavato i capelli vado ad applicare questa maschera sempre della stessa linea la maschera intensiva Ricci Perfetti di Pantene che è una maschera molto, molto corposa vedete? veramente molto corposa ha una profumazione buonissima, ragazzi questi prodotti hanno delle profumazioni splendide e questo è un trattamento intensivo per Ricci che dà una buona idratazione e nutrimento ed è una maschera velocissima perché io la applico, la tengo su due minuti perché è una maschera appunto che agisce in due minuti e poi proseguo con il risciacquo la maschera è ricca di agenti micromodellanti nutre in profondità i tuoi capelli per trasformare i Ricci Ribelli in Ricci Definiti renderli molto più elastici la cosa che mi piace quando utilizzo questi due prodotti in combo è che una volta che io vado ad asciugare i capelli o meglio a tamponare i capelli e tolgo il telo io ho già la definizione del Riccio i capelli non sono crespi e li sento già abbastanza modellati quindi questi due prodotti in combo mi piacciono moltissimo perché mi piace l'effetto che hanno sui miei capelli la maschera tra l'altro li rende più lucidi più morbidi, facilmente pettinabili quindi agisce come un balsamo ma è un trattamento un po' più specifico e più profondo invece la volta successiva che vado a lavare i capelli utilizzo questa combo di cui vi ho già parlato e con cui mi sto trovando benissimo sono due prodotti super super low cost sono della linea Splendor si trovano sia i prodotti mantenne che questi nella grande distribuzione lo shampoo illuminante olio splendente quindi questo non è un prodotto specifico per capelli ricci ma può essere utilizzato appunto da chiunque e poi in combo il balsamo illuminante olio splendente sempre di Splendor che ovviamente sappiamo perfettamente come si utilizzano lavo prima i capelli poi applico il balsamo lo lascio agire qualche minuto e poi procedo con il risciacquo questa è una formula arricchita dalla combinazione di olio di macadamia e mandorla che restituisce ai capelli la loro naturale luminosità rendendoli setosi e morbidi la profumazione è ottima non mi hanno provocato problemi di allergia disidratazione del cuoio capelluto disquamazione forfora che più ne ha più ne metta sono dei prodotti con cui mi trovo benissimo vi dicevo appunto che io comunque per il momento sto utilizzando questi poi mi piace comunque alternare alternare i prodotti in questa air care routine non vedrete tantissimi prodotti bio io ci tengo a dire che non perché io demonizzi i prodotti bio assolutamente io utilizzo tutto e provo tutto in questo momento mi trovo ad utilizzare questa air care routine che non è un air care routine bio con inci accettabile però io ragazze mi trovo bene quindi io utilizzo tutto ciò che è performante su di me che va bene per me e quindi che sia bio che non sia bio che abbia una marea di siliconi che non ne abbia purché appunto siano performanti ecco quindi questo ci tengo a dirlo e quindi questi sono i prodotti che io utilizzo appunto per il lavaggio e per districare i capelli quindi tra shampoo e balsami dopo aver lavato i capelli e tamponato con un telo io non li strofino ma li tampono solamente poi tolgo via tutto passo appunto ad utilizzare dei prodotti allora sui capelli umidi e solo sulle punte quindi per nutrirle per prevenire la formazione delle doppie punte per fare in modo che le punte siano molto più corpose e più lucenti utilizzo in maniera alternata insomma come mi gira questi due prodotti di Avon ragazze che io vi straconsiglio ma ve ne parlerò ampiamente anche in altri video di questi prodotti la linea in questione si chiama Advance Technique e sono due oli siero per capelli allora il primo che è quello più famoso è l'olio all'olio di argan quindi quest'olio per capelli all'olio di argan è un olio siero che va a dare nutrimento alle punte io ne applico una piccolissima quantità solo sui capelli bagnati sempre e solo sulle punte e in alternativa utilizzo questo che invece è una combo tra olio di argan e olio di cocco quindi questo è ancora ha un potere ancora più lucidante e più nutriente nonché una profumazione buonissima quindi questi due olietti io li utilizzo separatamente non insieme o uno o l'altro solo sulle punte li metto sulle punte li applico sulle punte e io comincio già dall'olio applicando l'olio a fare questo tipo di movimento a tirare sui capelli così in maniera tale da cominciare a definire praticamente il riccio dopo aver applicato l'olio quindi o l'uno o l'altro vado ad utilizzare questi due prodotti quindi ripeto lavo i capelli due volte a settimana e quindi cambio i prodotti una volta uso una combo e una volta uso l'altra e vado ad utilizzare questi due prodotti insieme che sono due prodotti di Diego Dalla Palma sempre specifici per capelli ricci allora il primo è il riccio fluido ed è una pozione attiva ricci è una crema praticamente mentre il secondo prodotto è riccio scolpito ed è una crema gel per ricci definiti allora io li utilizzo indistintamente prima l'una poi l'altra cioè non uso un metodo non applico prima questa poi questa prima questa oppure poi questa insomma in base a come mi capita partiamo con questa quindi prendo una faccio un paio di premute qui sul dosatore strofino sui palmi delle mani e poi vado sempre ad applicare scusate altrimenti mi cade tutto me li poggio qui vado ad applicare su tutto a partire da qui e faccio sempre questo movimento sempre questo sui capelli umidi allora questo prodotto è praticamente una crema che innanzitutto questo per esempio è formulato molto molto bene perché è un prodotto che non contiene allora contiene fitoproteine ristrutturanti contiene arginina contiene fitoceramidi e olio di girasole cosa non contiene non contiene sls ed sls parabeni talati e triglosan quindi comunque come vedete c'è una via di mezzo in questo prodotto quindi come vi dicevo è una lozione che va ad attivare il riccio a parte che hanno una profumazione buonissima e poi vado ad applicare il mio riccio scolpito crema gel che va appunto a modellare a disciplinare ricci anche questa contiene agenti filmogeni modellanti contiene arginina dei polifenoli strutturati strutturali che si ottengono dalla noce e poi degli agenti idratanti senza parabeni senza coloranti senza aftalati e senza triclosan allora questo è un prodotto arricchito con arginina che avvolge ogni riccio esaltando nell'armoniosità i capelli sono protetti dall'umidità liberi dal crespo e per avere appunto delle onde disciplinate questi prodotti li applico sempre facendo l'importante è questo movimento qui andare a fare questa sorta di pressione vedete sui capelli sempre così in maniera tale già avendo i capelli umidi da dare la forma del capello riccio a quel punto procedo con l'asciugatura mi armo di diffusore e vado a fare sempre col diffusore a tenere i capelli così e a dargli questo movimento le volte in cui non utilizzo quei prodotti l'altra combo che io vado ad utilizzare quindi dopo aver fatto lo shampoo applicato il balsamo o la maschera vi faccio vedere aiuto vado a prenderlo vi faccio vedere tutti i prodotti che utilizzo dopo aver tamponato i capelli con l'asciugamano dopo aver applicato l'olietto l'altra combo che utilizzo che mi piace moltissimo questi sono prodotti che ho preso in parafarmacia e qui parliamo di prodotti con ingredienti attivi di origine naturale sono i prodotti di René Forterer Paris che io ho acquistato in parafarmacia questa è una linea professionale e si tratta di una lozione e di una crema allora in questo caso cosa vado a fare io vado ad applicare prima la lozione che spruzzo sulle mani e poi sempre con lo stesso movimento la vado ad applicare sui capelli allora questo è appunto vi dicevo uno spray riattivatore di Ricci effetto Riccio scolpito ed un prodotto appunto senza risciacquo ed è un prodotto 100% naturale quindi anche le amanti insomma di un inci perfetto possono tranquillamente utilizzare questo prodotto dopodiché vado a mettere la mia crema sempre il stesso procedimento ne metto un po' sul palmo della mano la massaggio e poi la vado ad applicare ma proprio su tutte le lunghezze sempre con il solito movimento così verso l'alto e anche questo appunto è un prodotto perfetto per i capelli ricci adesso qua è scritto talmente piccolo 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 comunque ci sono degli oli nutrienti che vanno a come dire migliorare l'aspetto dei capelli ricci una cosa però che faccio è che io non vado ad asciugare subito immediatamente i capelli ma li tengo un attimo umidi e mentre sono umidi faccio sempre questo movimento ma lo faccio veramente tantissime tantissime volte dopodiché procedo appunto all'asciugatura con il mio diffusore alla fine di tutto quando i capelli sono perfettamente asciutti vado a spruzzare un po' di questo prodotto di cui vi ho già parlato perché mi piace tantissimo ed è appunto questo scintille di luce effetto seta di Chiara Nasti che è appunto questo spray all'olio di argan per dare lucentezza quindi per capelli spenti e crespi va shakerato è un'emulsione che contiene appunto olio di argan e va spruzzato praticamente su tutti i capelli perché non va assolutamente a ungerli e a sporcarli ma dona semplicemente lucentezza è un prodotto che può essere utilizzato anche solo ed esclusivamente per deodorare i capelli perché ha un profumo buonissimo è un prodotto che non contiene alcol ovviamente quindi si può spruzzare in quantità industriale sui capelli perché li deodora li profuma dà un effetto brillantezza e lucentezza meraviglioso e quindi questo è un prodotto che io amo follemente che sto utilizzando tantissimo ovviamente i prodotti di cui vi ho parlato possono essere utilizzati anche da soli non necessariamente in combo per esempio quando ho lavato i capelli magari il giorno dopo e voglio nuovamente dare un po' di forma perché durante la notte magari i capelli si sono un po' appiattiti io utilizzo o la crema o la crema gel o utilizzo semplicemente la lozione di René Furtere vado a spruzzarla sui capelli vado a fare sempre questo gesto per dare nuovamente corposità ai capelli insomma e questo ragazze è il risultato comunque i capelli vedete sono belli sono belli lucidi magari stamattina ancora qua un po' di effetto crespo però io adesso vado a spruzzare il mio il mio olio insomma di chiaranasti quindi vado a dare ancora un po' di lucentezza quindi questa ragazza è la mia hair routine di questo periodo questi sono i prodotti che sto utilizzando da quando mi chiedete appunto ma cosa fai per avere i capelli così che prodotti utilizzi questa è la mia metodologia non faccio altro non utilizzo altri prodotti l'importante sempre perché i capelli ondulati e ricci è diciamo questo questo movimento quindi prossimamente se poi cambierò i prodotti utilizzerò altri prodotti insomma io vi faccio sapere vi faccio un aggiornamento dell'hair care routine intanto vi ringrazio spero insomma che il video vi sia stato utile magari se avete qualche prodotto da consigliarmi per capelli ricci e ondulati io insomma sono sempre pronta ad aspettare i vostri consigli vi mando come sempre tanti baci e se vi va ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao